Chiara Ferragni e Fedez, il gesto che riaccende le speranze. Loro due hanno. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. Un sospiro di speranza si è diffuso tra i fan di Chiara Ferragni e Fedez, poche ore fa, quando il rapper ha fatto un gesto che ha acceso il gossip su un possibile ritorno di fiamma. Fedez ha sorpreso tutti postando una storia su Instagram, in cui ha condiviso una sua vecchia canzone, con un testo che ha lasciato pochi dubbi sull'interpretazione. Mentre molti speculano sul significato di queste parole, sembra che per molti il riferimento sia chiaro. La situazione sentimentale di Fedez potrebbe non essere così definitiva come sembra. Finisce bene, altrimenti non è finita, me l'hanno sempre detto. Sono versi che hanno fatto sussultare i cuori dei fan, lasciandoli con un mare di domande irrisolte. Il weekend appena trascorso ha visto Fedez immergersi nella nostalgia. Trascorrendo del tempo con i suoi figli a Rozzano. Mentre Chiara Ferragni era impegnata a Che tempo che fa, il rapper ha voluto portare i suoi amati Vittoria e Leone nel luogo che ha segnato la sua infanzia, il paese vicino a Milano dove risiedono i suoi genitori. Resta da vedere se questo gesto nostalgico sarà solo un ricordo del passato, o se nasconde qualcosa di più profondo e significativo per il futuro della coppia.